Ciao a tutti i diavoletti e benvenuti in questo nuovo video, io sono gli Diabolix e oggi siamo tornati in un video diverso dal solito qui siamo su Brewstar, un gioco che porto per la prima volta sul mio canale e niente ragazzi, ora guardo un attimo che c'è, ok 14 d'oro gratuito sono ritornato dopo parecchio tempo, io direi subito di partire con una partita questi sono i miei brawler, non sono molto forti, aspettavo a giocare insieme a voi aspettavo ad andare avanti, almeno posso giocare insieme a voi e niente ragazzi, partiamo subito la prima partita, metto il conto, gioco con un mio amico che è abbastanza scarso come la merda, però va bene lo stesso, dai e ok, caricato, più boppicciano giocatori, perfetto allora, vogliamo da dove si parte, perché qui ci sono subito delle casse se non sapete come funziona, praticamente questa è la sopravvivenza dove noi dobbiamo raccogliere questi diamantini per un diamantini, insomma come potete chiamare le punti energia per avere i brawler più forti e bisogna uccidere quell'altro per vincere la partita ad esempio ora io ho attaccato un muslitos non voglio dire il primo, ma io lo chiamo muslitos qui bisogna prendere più punti possibili per essere più forti più di livello alto siamo e più siamo forti già a livello 6 è un ottimo livello dopo cui c'ho un muslitos e se mi accompagno viene a aiutare, grazie a me mi ha ammazzato Gabri, ammazza il suo compagno già lo sconto finale, è a livello 11 il mio compagno devi aspettare che io mi rigenero, almeno si può combattere insieme, ok? io dovrei ripartire da livello 1, infatti è così ok, arriva, arriva il muslitos è, si è ammazzato, si è ammazzato il muslitos, mi sembra il muslitos è ancora vivo, ah no è appena rinato ci ha fottuto a tutti e due, va bene va bene come prima partita ci sta, siamo arrivati secondi guadagniamo 4 per 3 guadagniamo 1 di gestione stella guadagniamo 20, ora usciamo vediamo, ah si apro, posso aprire un baule magari speriamo di trovare qualcosa di buono magari un nuovo brawler, no niente ok, perfetto posso migliorare Nikita ma non me ne frega e vediamo se qui magari mi danno qualche punto interessante forse quelli di il primo lo porterei a livello 6 ma vabbè, no, direi ad andare con la seconda partita andiamo ok, perfetto facendo partita ragazzi, dai questa bisogna vincere è dura però dai, ci si può fare la prima partita è venuta interessante vediamo se ora si vince ok, intanto noi abbiamo già raccolto due punti ora facciamo questi qua ok, intanto abbiamo filato un po' di 100 siamo livelli 7, ottimo qua c'è un Nikita a livello 2 volendo si può andare a fottere c'è anche un Bull un Bull 8 dietro le nostre spalle questo compagno che è una Shelly però a livello basso però siamo fottiti tranquillamente ok livelli 8 siamo ho coittato quello lì parecchio i miei compagni dovrebbero ritornare indietro stare con calma fare con calma fare tutto con calma ok, ho smirato un pochino intanto vedete queste nuvi verdi sarebbe la save come su Fortnite praticamente ok, dai miei compagni c'è un Bull riesce a scettare tira l'orso sacchione ok, dietro c'è una Shelly di merda c'è un Nikita a fare qualcosa ok, siamo a livello 10 ma siamo in 3 ancora recupera la vita amico ti prego vai, perfetto vedete che ho scarso eh, c'hanno Muslitos a livello 1 tagli lontano amico perché Muslitos anche se è a livello 1 però c'è parecchia vite da vicino però si può pushare ok, vado fuori, siamo a livello 11 con scontro finale ok, vediamo quell'altro livello costo, questo livello 7 questo lì praticamente morto ok, vittoria perfetto ragazzi due partite eccezionali direi una vittoria e una seconda posizione direi che non me la sto cavando male come come il primo video del per Browstar ok ragazzi siamo qui con la terza partita le prime due sono andate molto bene speriamo che vadano bene anche queste siamo abbastanza formidabili come coppia diciamo perché sono nei due partiti spettacolari ok, la prima è aperta la prima è aperta siamo già a livello 3 quindi not bad ce n'è uno qua un colto e c'è di male ah, è morto subito siamo a livello 4 almeno abbiamo un po' arato male piccinino vediamo se qua al centro c'è gente o magari c'è sono livelli 7 ok ragazzi abbiamo già visto i vincitori delle queste divise da partita praticamente mi sa perché bisognerebbe eh, vedi stanno facendo la strage c'era un come siamo? non mi ricordo mi siamo quella card ecco Nicolta ha shottato qua c'è due orini sì, due orini due livello 1 insomma che ci garantiscano livello 6 beh, anche questa partita comunque sia non sta andando male siamo a livello 6 si è fatto una kill una kill mi sembra che l'ho fatta io qua dentro c'è qualcuno ecco appunto ma le ala quanto fa male sì, ciao caro ciao amico mio ah, mi sa che mi ha uccitato anche a me su livello 12 vedete sono formidato c'è una lunga città da quel pezzo di merda aiuto rinato il mio compagno ok, vai il mio compagno è rinato sta scappando vogliamo almeno la seconda posizione da questo se il mio compagno è furbo si mette là dentro si firma che tavola hanno visto 3 secondi per rinascere ok, siamo rinati sono rinato ok ragazzi erano troppo forti siamo arrivati i terzi non è una partita andata male più uno si è fatto quindi dai purtroppo tutte le partite non possono andare bene soprattutto se trovi carte del genere contro allora ragazzi cambiamo la modalità visto che è andata l'ultima si fa una raffacemme per vedere se si riesce a fare qualcosa però io una raffacemme preferisco usare il primo e andiamo vediamo che il compagno si trova e comunque si c'è c'è uno il primo e uno i loro forzi sono più avvantaggiati perché noi ci sono colt che non ha molta vita magari spara lontano però quella quella la carta lì spara parecchio lontano ed è parecchio resistente ok uno l'ho ammazzato ok siamo a un vantaggio per il momento di 3 gemme io ho anche la base qui ok 4 ce l'ho tutte io aspetto rinforzi ok c'è un muslito qui che va ammazzato ok forse ho usato un po' la mossa a casa però va bene ok prendiamo sempre c'è un altro gemme ok quello lì sotto attacco c'è un muslito qui che mi vuole rompere le palle c'è un Nikita che però spara molto su un pambino quindi mi potrebbe portere un po' il gemme ragazzi io sono più gemme di tutti i gemme 6 quindi mi vorrei evitare di morire ok me le sofforte di tutti sono 8 gemme potrei iniziare il conto alla rovescia lo inizio basta che non mi uccidano e se vinto basta che i miei compagni mi tengano lontano da tutti gli scontri mi sono ascolto qua dentro almeno ok 8 7 6 5 4 3 2 1 vittoria easy man che partitone che ho fatto altro che ninja di fortman qui abbiamo ninja di brustar che partitone ragazzi 10 bellissime gemme conquistate tutte da solo ok vabbè easy easy dai sono a 381 trofei ok ragazzi non so se andare avanti con il video o magari ci vediamo nel prossimo video magari non lo so ora vedo che fare due secondi va bene ragazzi allora noi ci vediamo nel prossimo video vi ringrazio tantissimo per la visione mi raccomando lasciate mi piace la cosa più importante è condividere il video e magari farmi farmi conoscere ai vostri amici insomma se vi piace che sono abbastanza bravo e niente ragazzi supportatemi e noi ci vediamo nel prossimo video e le partite si sono fatte belle belle ci vediamo al prossimo